Il centro d'esta compatto torna a chiedere l'istituzione del garante per la disabilità, una figura terza che deve garantire i diritti dei disabili accogliendo le stanze dei cittadini e aiutando le amministrazioni nell'applicare in modo corretto la legge. Stavolta vogliamo arrivare fino in fondo, vogliamo che sia condiviso da tutto il Consiglio Comunale. Questa mozione è stata firmata dall'intera opposizione quindi è un segnale veramente importante che deve far capire a tutti che questa figura è fondamentale in città, lo richiedono le famiglie, lo richiedono le associazioni. La figura del garante è già presente in diversi comuni toscani. A politica, a partitica, questo è da statuto e deve essere una figura terza che da un lato accoglie le istanze dei cittadini con diversa abilità su eventuali mancanze, problemi che possono sorgere nella vita quotidiana, ma dall'altro, e questa è la cosa che forse è un pochino nascosta, è a disposizione anche delle amministrazioni comunali, sia un dubbio procedurale su un abbattimento di una barriera. La mozione è stata firmata anche dal gruppo consigliare centrodestra, dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle e dalla consigliere indipendente Patrizio Vattoni.